Napoli, Parigi, Vienna. E questo è il titolo scelto per la ventitresima edizione del concerto di Capodanno della nuova orchestra Scarlatti, uno degli appuntamenti ormai fissi del cartellone delle festività Partenope per il nuovo anno. Al concerto, organizzato con il supporto del Comune di Napoli, hanno partecipato tantissimi napoletani e diversi rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Luigi De Magistris, che hanno riempito il teatro mediterraneo della mostra d'oltremari di Napoli, per assistere al felice confronto tra capitale europee della musica, arricchito da due giovani voci partenopee, il soprano Naomi Rivieccio e il tenore Stefano Sorrentino, con la direzione di Gianna Fratta. Celebri pagine di Strauss si sono alternate in un gioco continuo di richiami e di contrasti con le canzoni napoletane, fra le più amate, in versione sinfonica, il coro dei soldati di Roberto De Simone, surdato innamorato, la bambola meccanica dei racconti di Hoffman, incarnata da Naomi Rivieccio, e coro ingrato, molto applaudito nell'interpretazione di Sorrentino. Anche quest'anno, affermato il direttore artistico della nuova scarlattica Etano Russo, siamo riusciti a offrire ai napoletani e ai tanti turisti, in particolare tedeschi, una proposta musicale variegata, attingendo dalla ricca tradizione partenopea, mescolandola con quella viennese e parigina.